silenzio di guerra l'adattamento alla scena della pièce originale di federico guerri che io ho curato per portare in scena durante la tourneggia del 2015 adesso nel 2016 per diciamo l'intuizione anche del professor mario festa della editrice argo di roma vede finalmente la luce che io non pensavo sinceramente potesse arrivare a questo punto perché quando ho avuto l'idea di portare in scena una storia sulla prima guerra mondiale avevo delle sensazioni avevo un bisogno di esprimermi come attore ma davvero come autore non credevo fosse possibile invece eccoci qua oggi a presentare silenzi di guerra il libro dell'attore c'è la fatica c'è c'è lo studio c'è la voglia di portare emozioni in scena da qui è nato silenzi di guerra che oggi vede la luce